ciao bambini sono la maestra francesca vi ricordate quando l'altra settimana la maestra vi ha detto che tutte le chiese hanno un nome bene oggi vi voglio parlare di quella chiesetta che abbiamo visto a pagina ed era intitolata a san filippo neri vi sarete domandati ma chi è questo filippo neri e poi san filippo neri innanzitutto iniziamo dalla parolina santo chi è un santo secondo voi santo è chi ha avuto una vita simile a quella di gesù filippo neri era un santo era un uomo allegro e gioioso e voleva tanto bene ai bambini e si prendeva cura soprattutto dei bambini più sfortunati tanti anni fa ragazzi le scuole non esistevano e i bambini poveri vivevano nelle strade e non avevano il cibo san filippo per aiutarli chiedeva l'elemosina ecco qua un'altra parola particolare elemosina che cos'è un elemosina l'elemosina è un dono che si fa ai più bisognosi un giorno un ricco signore infastidito colpì filippo neri con uno schiaffo perché insisteva per farsi dare l'elemosina per i bambini poveri san filippo fece finta di niente e con il sorriso gli disse grazie questo è per me cioè lo schiaffo adesso però mi dai dei soldi per i miei ragazzi il signore si vergognò tanto di quel gesto e gli donò del denaro per aiutare i bambini san filippo neri era chiamato il santo della gioia perché voleva vedere i bambini sempre felici e ogni volta che erano un po' birbanterili come qualche volta lo siete anche voi diceva loro una frase state buoni e non la continuo perché se volete sapere come continua scrivete in alto nelle caselle gialle i numeri da 1 a 8 e poi copiate le lettere che corrispondono ai numeri così avrete la frase che san filippo neri diceva sempre ai bambini state buoni e continuate voi san filippo inventò l'oratorio una sala della chiesa dove accoglieva bambini sia poveri che ricchi per farli stare insieme per farli divertire lui cantava e suonava con loro e insegnava tante cose importanti bene bambini la storia di san filippo è finita mi raccomando completate l'esercizio questo a pagina 57 e poi se volete fatemi un bel disegno di san filippo neri e mi raccomando leggete leggete tanto leggete sia la pagina 56 che 57 un bacione dalla maestra francesca e ci risentiamo prestissimo